Onorevole Di Maio, il patto PD-Forza Italia sulle riforme regge in questo momento sembrate un po' fuori dai giochi, però settimana prossima dovrebbe esserci l'incontro con Renzi sulla legge elettorale e in che modo si può rientrare in partita? Noi vogliamo far rientrare in partita i cittadini, noi vogliamo una legge elettorale con le preferenze, vogliamo un senato elettivo. Per farli rientrare basta togliere gli alibi a Renzi, ha detto fino ad ora che poteva accordarsi solo con Berlusconi, adesso non è più così. La sua posizione dialogante ha creato dei malumori nella parte più dura, al transista del movimento, si sente un po' nel mirino in questo momento. Io ho parlato con i miei colleghi, con chi dovevamo chiarirci, ci siamo chiariti, l'obiettivo è comune, riuscire a dare una legge elettorale ai cittadini italiani migliore di quella che c'è in campo. Nella nostra legge c'è per esempio che i condannati non possono entrare più in Parlamento, vogliamo sapere cosa ne pensa il PD. Il sindaco di Parma Pizzarotti sembrava un passo dall'espulsione, ora invece Grillo lo ha riammesso nel blog e addirittura si parla di un asse tra lei e Pizzarotti. Per fare cosa? Io Pizzarotti non lo sento da due mesi, sono contento che ieri abbia potuto spiegare la situazione sull'inceneritore, andiamo avanti ma io non ho nessun merito in questa faccenda.